Avete detto, vabbè, però un minimo di garanzia non dovete dà, perché per come ci ha detto Valerio si chiamava, giusto? Valerio. Sì, sì, Valerio. Valerio. Mecca la Fiori si mette seduto a Pachina e a un certo punto è zarza più, eh? Cioè, Criscito, Cambiaso, Ciborra, che gli è appena... C'ha sto nome che è veramente quasi volgare. Cioè, andare a Genova per non giocare, ma che c'è andato a fare? Poi magari spero che sia così bravo che il nuovo mago... Tu c'hai un dono, Piero, guarda, io fra pochi mesi, fra un paio di... Fra un mese festeggerose, così si può dire, vent'anni di radio, tu c'hai il potere di stupirmi sempre, proprio di andare oltre sempre. Guarda, mi fa piacere perché stupire te, insomma... Eh, ho capito, ma stupire te, insomma, in che senso? Perché... Ho capito? Eh, sì, vabbè.